Un presidio per salvare il posto di lavoro e garantirsi un futuro dignitoso. Sit in questa mattina di 70 lavoratori di call.it, consorzio sintesi, davanti la sede del Consiglio regionale della Campania. Motivo della protesta, la decisione di Windtree di interrompere il contratto di appalto con l'azienda. In particolare ad essere fortemente a rischio è il perimetro occupazionale, composto prevalentemente da lavoratori diversamente abili. Un'emergenza questa che non va sottovalutata e che riguarda i lavoratori di Napoli, Roma e Palermo, dicono i sindacati. Ascoltiamo Gianluca Daniele, segretario generale, SLC, CGL, Napoli e Campania. Noi come organizzazioni sindacali e in generale insieme ai lavoratori chiediamo anche un intervento del governo e delle istituzioni affinché si possa dare continuità al lavoro di queste persone e applicare nel caso la clausola sociale per garantire comunque un posto di lavoro a lavoratori che per anni hanno svolto con dignità e con grande dedizione la loro mansione. All'incontro al centro direzionale sono intervenuti esponenti della regione Campania. Sentiamo il presidente della Commissione Lavoro, Giovanni Mensorio. La Giunta regionale ed il Consiglio sono intervenuti a cercare di fare chiarezza su una questione che non può in nessun modo vedere penalizzati i lavoratori nel prosieguo. Si va verso una soluzione per definire contorni che non pregiudichino diritti dei lavoratori e siamo fiduciosi di poter andare tutti nella stessa direzione per ottenere risultati positivi.